Ed è una mazurka questa volta, una mazurka inedita, un brano inedito che abbiamo proposto, abbiamo creato appositamente qui per la Cadellicio e io voglio dedicarlo al maestro Leo Bevini e a Vicentini Rino ed è Violetera, Violetera ed è un brano proposto per gli anni 90 Vai con la base musicale, i maestri dell'associazione San Metti di Ballo Alla centro Paolo Emanuela, aspiranti maestri del 90 Andiamo con Medio Roberta, Alvise Emanuela, Gabriele, Federica, Fabio, Cristina, Violetera Paolo Semprini e Manuela Violetera In coreografia i maestri di Danzefoll dell'associazione San Metti di Ballo E si parte, primo trio Vai Paolo E si vola Alla ultimo giro Vai Alvise Emanuele, vai Fabio Vai Gabriele Violetera, mazurka caratteristica Grazie signori, grazie Paolo